L'ho saputo che ultimamente hai avuto un po' di problemi con il tuo alter ego, bella. Aveva iniziato lui, mi aveva provocata. In questa scuola non tolleriamo la violenza, se hai un problema con qualcuno è da me che deve finire. Ma perché l'hai fatto? Stava male. È solo una ricca puttana, che cosa potrebbe fare? Hai visto cosa ha fatto quella ricca puttana? Sappiamo tutti che Brando è sempre stato un fottuto pazzoide, ma a noi sta bene così. C'è un'oscurità profondamente radicata in ognuno di noi. Un mostro che ogni tanto emerge, ci fa fare cose che non vogliamo. Ma è solo accettandolo che ne possiamo capire la grandezza. Non l'abbiamo ancora trovata e fra poco farà buio. Riprenderemo le ricerche domani mattina. Sì, a quell'ora chissà dove sarà arrivata. Guardati attorno, dove vuoi che vada. Probabilmente si è già persa nel bosco. Era come se parlassi di un'altra persona. Un'altra persona? Sì. Non avrei mai dovuto lasciarti andare di sopra. Lei ci crede in mostri, signor preside? Quando siamo piccoli, li cerchiamo sotto il letto? O dentro l'armadio? Quando semplicemente si trovano dentro di noi? Ben tornato, paparino. Ti sono mancata? Ti sono mancata? Ti sono mancata? Ti sono mancata? Ti sono mancata?